Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki e io sono Steph e quest'oggi giocheremo a Youtubers Life! Penso che ormai si sia capito che noi amiamo i giochi gestionali e penso che si sia anche capito che questo è il terzo che facciamo riguardante Youtube, ma... Ma? Ma? Ok! Questo ragazzi è davvero carinissimo, io so che vi fidate di me e dei miei consigli perché si fidano, non di te ma di me sì! Ok! Non fare quelle facce strane, per favore! Hai detto le stesse cose di Tube Taekun, eppure l'hai cambiato, stai facendo un altro gioco! No, 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 questo è un gioco nuovo che è uscito ieri su Steam ed è davvero, davvero carinissimo! Guardate già la grafica e la personalizzazione del personaggio che noi abbiamo già creato, non è carinissimo! È troppo bellino! Qui si possono fare un sacco di cose serie perché non sei solo chiuso nella tua stanza, ma devi anche studiare, perché altrimenti tua mamma ti sgrida e non ti permette di fare Youtube, questa cosa è importantissima! Potremmo andare alle fiere, acquistare videogiochi, insomma ci sono tantissime cose da fare, è troppo troppo bellino! Andiamo avanti subito perché guarda cosa c'è subito dopo! Anche la nostra personalità possiamo scegliere tra superstar, money grabber perché tradotto in italiano sarebbe quello, socievole quindi che pensi molto ad andare ai party credo, genio, party animal quindi animale della festa, un po' come la nostra Tina che è un animale della festa, sarebbe lei! E' romantico, penso che è romantico, anziché pensare solo al canale va dalle fiere per cercarsi ragazza, qualcosa di genere! Però se cerca la ragazza, per poi fare video con la ragazza e fare più views potrebbe essere... Allora, o puntiamo la vetta con superstar o facciamo i geni che architettano tutto, cosa dici? O il money grabber! No, superstar! Superstar, vuoi la vetta proprio! Voglio essere una superstar, ma scherzi! Va bene! Allora, possiamo anche scegliere il nostro tipo di canale, diciamo subito che è un gioco in accesso anticipato, quindi come vedi tutti sono un po' bloccati, rimane solo il gaming, ma a noi ovviamente interessa il canale di videogiochi quindi ci va benissimo, però guardate tutti quelli che aggiungeranno! Io per divertimento li vorrei provare tutti, quindi quando usciranno faremo un canale di tutto! Io voglio un canale di musica! Di musica? Mi spira troppo, voglio fare musicista! No, io lifestyle, faccio vedere gli esercizi un po' a destra! Ma se stai scarsissimo! Non è vero! Sei scarsissimo, comunque andiamo avanti! Ok, ok, il nostro nome è Stere Niki! Stere Niki, ovviamente! E qua possiamo mettere... Fortune Stuber! Two players, one console! Siamo abbiamo poca fantasia nei nomi, teniamo quello classico! Esattamente! Ed eccoci qua nella nostra bellissima cameretta pronti ad iniziare la nostra carriera di youtuber! Sei felice? È troppo bellino! È troppo bellino! Guarda tutta la casa, guarda, è carinissimo! Guarda, ci sono anche i panni stessi! Ciao mamma! Ciao mamma! È bellissimo! Guarda, la mamma poi che pulisce la cucina, che brava mamma! È visto? È allucinante, è troppo carino! È troppo carino! Ok, ok, ok! Siamo pronti a registrare il nostro primo video! Non vedo l'ora, sono felicissima! Vai nella libreria! Ok! Guarda, ci dovrebbero essere i nostri giochi! Ok! Possiamo... Wow! Ne abbiamo uno! Quanta scelta! Aspetta, aspetta! Ma tu dimmi se puoi iniziare un canale YouTube già pieno di giochi! Iniziamo, iniziamo! Guarda, guarda tutte le opzioni che abbiamo! Questa è la nostra postazione! Ok! Come vedi possiamo scegliere la risoluzione della webcam, se mettere un filtro al microfono come questi, giusto per far vedere i filtri, altre impostazioni del microfono e vediamo un po' cosa possiamo scegliere, penso che non abbiamo niente, vero? Ok, risoluzione basta, giusto per essere felicissimi, che bello! Microfono non abbiamo nessun filtro, poi abbiamo un bellissimo microfono che è questo qua, se lo vedete qui, è dei poveri! Doviamo dargli il nome? Sì! Allora, bisogna... Aspetta, un titolo d'effetto perché siccome già è un gioco che non va molto di moda dobbiamo dargli un titolo che attira, quindi non lo so, facciamo schifo nei titoli! Allora, la storia che non sai! Vai, vai, non so perché la storia che non sai! Trattina Empire Planet! Ti attirerebbe questo titolo, a me no! No! Ma va bene, dai! Ok! Non ti stai rinichi che fai video, non siamo noi! Esatto, non ci interessa! E guardalo, adesso si mette a registrare! Andalo con la webcam, che bellino! E due come bellino, fa troppo ridere! Monetando! Allora, durante il video succedono delle cose, noi abbiamo delle carte a disposizione! Esatto! E possiamo scegliere la nostra reazione! Qua ad esempio c'è un loading screen! Io farei uno sguardo Morderus! Morderus penso che sia cattivo! Sì! E non penso sia andata tanto bene, ma ok! Ok! Allora! Allora, praticamente fai una sfida semplice! Sì! Un po' come lo diciamo! Fanno i comment o è più expression? Espressione felice, dai! Espressione felice! Sì! Sì! Dai, sono d'accordo! Passiamo all'editing! Guarda, queste sono le nostre clip! Mettile! Mettile! Fai vedere le cose! Cioè, ma si montano come un puzzle! Bello questo problema di editing! Esatto! Vedi che noi dobbiamo cercare di inserire, al meglio che possiamo, le tesserine! Ok! Quindi per fare un editing buono, perché altrimenti la gente ti critica per aver fatto un editing in terribile! Ma è cattivissimo! Ma poi non posso fare di meglio, vedi? In ogni caso posso collegarne solo uno! E infatti devi fare al meglio che puoi, perché ancora siamo inesperti! Devi aspettare, capito? Non puoi avere fretta! Io farei così, allora! Ok! Possiamo aggiungere il titolo, vedi? Poi abbiamo i colori e il focus! Io non so bene come funzionano i nostri effetti, però direi di provare qualcosa! Tranquilla, sono un esperto! Metti le due cose che costano di più e saranno quelle che ricompensano meglio! Secondo me la voglio mettere anche il titolo, hai fatto tutto da solo! E allora facciamo così! Abbiamo tutte le nostre abilità, vedi? Un po' recitazione, editing del video, il suono, insomma tutte le caratteristiche di un video! E possiamo anche scegliere se pubblicare un video o non pubblicarlo se magari... Questa è una bella cosa, questa è una bella cosa! Capisci che il video magari è di stanco, non ne avevi voglia! Sì, perché ragazzi succede spesso anche a noi che magari registriamo video e non ci piacciono, quindi almeno vedi è realistico! Tipo questo! Non uscirà mai, non l'avete visto nulla! No dai, pubblichiamo il video! Prima di tutto però, prima di pubblicarlo, ti voglio far vedere la copertina! Cioè ha messo un'immagine nel gioco e la sova già! È un grafico professionista, non lo criticare! Però quello che mi ha scontornato bene! Eh bravo! Bravo nello scontornare le foto! Non tutti ci riescono, te lo dico! Pubblichiamo? Pubblichiamo! E il nostro primo video è andato! Ok! Dobbiamo aspettare! Dice che al tempo trovava noioso perché questo qua ragazzi è il nostro io del futuro! Fastidioso! Trovava fastidioso! Sì sì ci parla il nostro io del futuro! Metterci 17 ore a pubblicare un video e ne capiamo il motivo! Eh scusa, cioè tu lo troveresti bello da sopportare! Eh sì piacevolissimo! Va bene, è normale dai! È giusto! All'inizio, ripeto, non puoi avere già un'attrezzatura professionale a meno che non sei ricco! In quel caso la puoi avere! Dimmi che letto! Cioè questa cosa è fighissima! Ah sì ragazzi è un'altra cosa che io ho trovato carinissima Praticamente come avete visto c'è la madre nella casa E se noi non studiamo e non andiamo bene nei nostri esami La mamma ci bastona Esatto proprio ci bastona Se invece andiamo bene ci darà dei premi Quindi penso dei soldi che noi possiamo investire nel nostro canale Esattamente Siamo già dei piccoli imprenditori Quindi non solo dobbiamo fare i video dobbiamo anche studiare Capire bene come gestirci il tempo Perché i soldi ci servono per comprare le cose fighe Eh no ma scusa devi anche studiare Non è che puoi andare male a scuola Esatto Solo perché stai facendo dei video Dobbiamo andare a scuola? No dobbiamo studiare Ah studiare non andare a scuola Penso di sì Comunque semplicemente si clicca nella porta e noi studiamo Ok ok go shopping Vediamo cosa c'è vediamo Amazing on Amazing on PC world è all console and mobiles Allora Dove possiamo comprare? Nel primo dice? Sì dai nel primo No credo in tutti e tre Vedi Allora no qua costano un sacco di soldi No perché qui praticamente ci sono i monitor, i mouse e le tastiere Sì sì cioè le cose del pc Qua secondo me Ma PC world Ah quale console? Guarda c'è pure il nintendo Mantendo Death Bravissimi Bravissimi Questi nomi mi uccidono Sì bellissima E invece qua secondo me i videogiochi Esatto Allora Ascoltami un attimo Sì Io direi di comprare un videogioco che ha un interesse alto Cioè che vada proprio di moda Ok Per cercare di far andare proprio il nostro canale Quindi c'è League of Giants Ho questo battle for upper heart Mi sembra figo questo Allora Questo qua è l'ort Che seve Lord of the Rings Se no che l'hanno scritto male È uno dei miei giochi preferiti Cioè io ho tempo impazzivo per questo gioco Quindi rivederlo mi uccide dentro Perché ne voglio un altro La mamma già ci sgrida La mamma già si sgrida Ci dice di iniziare a studiare Perché altrimenti Cioè ci picchia Ci picchia proprio Fai attenzione Perché è cattivissima È cattivissima Ci guarda la faccia E ci dice anche Che un buon modo per guadagnare Sono i lavori part time Quindi probabilmente Ci sta dicendo di non perdere tempo A fare video Ma mamma Noi vogliamo fare gli youtuber Vogliamo fare gli youtuber noi Mamma Però non ci capisci Vabbè È arrivato il nostro nuovo gioco Guarda il pacchetto Che fluttua Guarda che carino Che bellino Apriamo il nostro Un altro nuovo gioco Eccolo qua Prontissimi È già andato nello scaffale La storia Perfetto Ok allora Ah no 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 Facciamo una cosa Sì Che dici Studiamo un po' E poi facciamo il video Facciamo il video E poi studiamo un po' Guarda il calendario Allora vediamo il calendario Guarda il cingurale di basso Vedi Il test è il 31 Oggi è il 9 E siamo al 9 gennaio Quindi comunque un po' di tempo Per studiare lo abbiamo Esatto Che dici Cosa facciamo Facciamo prima la cosa noiosa E poi la cosa divertente Allora studiamo E poi registriamo il video Esatto Dai così iniziamo a prepararci per il test E la mamma non si lamenta più Non ci picchia Esatto Non si arrabbia più con noi E ci lascia fare tutti i video che vogliamo E come vedete La nostra preparazione per il test è aumentata Clicca sul più Clicca sul più Ok Vedete Adesso siamo sul giallo Penso che dovremmo arrivare al verde Magari verde scuro Guarda sarebbe perfetto Ma arriviamo qua Dai non c'è bisogno di fare i secchioni Andiamo bene Ma non benissimo Allora se prendiamo un buon voto La mamma è probabile che ci dia più soldi E noi compriamo più giochi per il canale Ma io voglio registrare Voglio fare i videogiochi Ma devi anche studiare È importante Comunque registriamo un altro video Allora Quindi ovviamente registriamo questo Che l'abbiamo Cosa da cento di interesse Va super di moda Va super di moda Questo video ci deve andare benissimo Io te lo dico Guarda siamo pronti Con questo video sfondiamo YouTube Pronta? Sfondiamo proprio YouTube Con un pugno Come lo chiamiamo? Allora Il miglior gioco di sempre Gioco rivelazione dell'anno Ok ok mi piace Bello Gioco rivelazione Ovviamente è tutto in caps Rivelazione dell'anno Perché è proprio capito Esatto È da enfatizzare molto quindi in caps Guarda i commenti per questo video Non poteva non andarci bene Tanti pollicioni in su Ed è andato benissimo Benissimo Sono felicissima Sono tutti felici Stere Niki sei un grande Stere Niki sei un grande Stiamo andando a bomba Dormiamoci su Dormiamoci su Ricordati che dobbiamo anche mangiare Perché altrimenti moriamo di fame Giusto è vero che si mangia Moriamo di fame Lo possiamo seguire mentre mangia? Sì 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 Guarda cosa fa Va in cucina Apre il frigo E si prepara il cibo Cioè guarda Chi è? La nostra amichetta è venuta a trovarci L'abbiamo malata Se noi siamo andati a mangiare Non ce ne frega nulla Aspettaci un secondo Aspettaci un secondo Noi mangiamo e torniamo Aspettaci un secondo Cosa mangia? Cosa mangia? Non lo so Ha già finito Sembrava installata Bravo Benissimo a mangiare Ok ok Perché dice Devo fare cose Quindi mangiamo in fretta E torniamo subito all'azione Oh È una nostra amica? Sì È una nostra amichetta Penso a una compagnetta di scuola Ok A questo punto Ci dice che Vorrebbe registrare un video Ma lei non sa come fare E quindi ci dice che Ci darà il gioco E ci chiede se lo possiamo fare Al posto suo E' un gioco gratis Dai un gioco gratis Perché no? Se ci dà il gioco lei Scusa Esatto Un po' Comoda come cosa È furba la signorina Eh vabbè scusa Se lei non ci riesce Almeno chiede il favore a noi Ed ecco che c'è Instant C'è il gioco subito Ce lo poteva dare le a mano Ma quello era Mario? Frisky Punching Ma era Super Mario Vediamo Vedere? Mi è sembrato Dalle Vedere? Vedi? Sì Super Mario E anche questo Va tantissimo di moda Lo portiamo subito Quindi devi farlo subito 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 Guarda la copertina Sempre uguale Sempre uguale con lui là Va bene Dai apprezziamo Il suo modo di fare le copertine C'è qualcuno che ci guarda male qui Oh no Oh no Ci vuole picchiare Aiuto Scappa Vediamo che ci dice Scappa da tua mamma Aiuto Scappa Ok 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 Ci ha abbracciato Grazie Oh è felice Ah perché abbiamo studiato molto questa settimana Quindi è venuta a farci i complimenti Ma dacci i soldi adesso No ci devi dare i soldi adesso No ci devi dare i soldi adesso No ci devi dare i soldi adesso Ce li da a fine mese Arrenditi Non è giusto Ci ha fatto i complimenti Io voglio i soldi È tornata la nostra amichetta E ci ha detto che è stata felicissima del fatto che abbiamo fatto il gioco per lei Ma ci ha pagato No ci ha dato il gioco No Allora Secondo me Ci ha pagato Eravamo a 70 dollari Siamo a 93 Ci siamo stati pagati Oh grazie Per fare il video Ma magari Adesso arriva qualcuno E mi dà 20 euro per fare un video Comunque ci dice un'altra cosa Molto interessante Che è quello di cui abbiamo parlato A inizio video Praticamente ci dice Che ci sarà una convention di videogiochi E avremo la possibilità Di incontrare degli youtuber famosi E appunto A prendere qualcosa da loro Esatto O comunque farci riconoscere Per farci fare pubblicità Ci dice però Che il biglietto costa 100 dollari È un po' cara questa convention Di solito costano 10 euro 5-10 euro per entrare Qua 100 100 dollari E quindi ci dice Mi raccomando Conserva i soldi Per riuscire ad andare assieme A questa fiera Abbiamo un nuovo obiettivo Dobbiamo farcela Abbiamo comunque 93 dollari Io ti farei notare Che non siamo troppo lontani Dal traguardo Siamo già vicini Siamo dei grandi spagnatori Ma io ti voglio far notare un'altra cosa Guarda in alto adesso I nostri numeri 1500 iscritti E 5000 views Siamo fenomenali Vedi Fare i giochi giusti Al momento giusto È sempre la cosa migliore Guarda i guadagni del video Non avremo problemi Ad andare alla fiera Ok direi di fermarci così È troppo bellino questo gioco È troppo carino ragazzi Non vedo l'ora di andare avanti Sta morendo di sonno Adesso ti facciamo dormire Stai tranquillo Ora ti facciamo riposare Sta morendo di sonno poverino Ha lavorato troppo Comunque fateci sapere ragazzi Nei commenti Se vi piace il gioco Se volete vedere altri video Io ci vorrei fare una serie Perché questo rispetto agli altri Cioè è proprio un gioco serio Su youtube È troppo figo È troppo carino È proprio fatto bene La grafica è carinissima Lo voglio assolutamente continuare Beh ragazzi Il video è felice così Se vi è piaciuto Asciatrici un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao ciao